Allora è pronta signorina? Sì maestro. Correga la posizione dell'archetto. Bene così. Fa la mi re mi fa attenzione al mi mi scusi. Sol si fa son la si la si don la fa che cosa mi sta succedendo? Una tenerezza che io non ho provato mai lo so che mi sto innamorando ma non ho il coraggio di confessarlo neanche a me che è innamorato di te ed ho trent'anni di più. tu perché guardi me hai capito già io vorrei dirti che forse tu lo sai bene segreto e profondo una cosa dolce che io nascondo dentro me l'amore più grande l'amore più grande del mondo nato troppo tardi ormai per un uomo come me innamorato di te ed ho trent'anni di più bene allora ci vediamo dopo domani signorina no maestro giovedì allora no maestro non verrò più e perché ha deciso di non continuare a studiare no maestro ma perché allora perché sono innamorata di lei grazie a tutti grazie a tutti